Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Siamo alla fine dell'anno, è vero, ma la formazione ed aggiornamento di tutti noi docenti effettivamente non ha mai una vera sosta. Ecco perché mi piace proporvi in questo momento una risorsa non nuova, ecco, però forse ancora piuttosto nuova per il grande pubblico dei colleghi e delle colleghe. Parlo di Pearl Trees. Se traduciamo letteralmente dall'inglese otteniamo alberi di perle, nel senso che immaginate proprio un albero, dalle cui fronde vadano a discendere dei contenuti, ecco, abbiamo il senso di Pearl Trees. Cosa creiamo con Pearl Trees? Baccheche, baccheche in cui archiviare qualsiasi contenuto personale si voglia poi custodire o condividere con i nostri destinatari, dunque con gli alunni. Qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea trovate videocorsi su risorse analoghe quali, ad esempio, Wakelet o Simbaloo. Mi invito magari a dare una curiosata anche ad essi. Come accediamo e con quale facilità accediamo a Pearl Trees? Sito di riferimento, nulla da installare, lo vedete nella barra degli indirizzi, pearltrees.com. Andiamo a cliccare su Login. Il pulsante Login, in realtà, ci consente anche la primissima volta di effettuare il cosiddetto sign up. Tuttavia, nel mio caso, è un accesso, diciamo, dal secondo in avanti, dunque clicco via Google laddove io voglia scegliere un account, ad esempio, di Google Workspace di istituto, oppure anche un Gmail personale. Io clicco su Sign in with Google. Il mio browser, sapete che vi consiglio sempre di utilizzare Google Chrome o Mozilla Firefox, ricorda quali account siano memorizzati su di esso e mi riporta al mio cruscotto dei servizi. Quella Andrea Cartotto che vedete è il nome utente. Attenti bene, il nome utente del mio Pearl Trees. Non è ancora il nome delle singole baccheche tematiche che andremo a costruire. In alto nella barra degli indirizzi, noterete che abbiamo già anche un URL associato al nostro Pearl Trees. Nel mio caso, PearlTrees.com slash Andrea Cartotto. Molto semplice da usare perché, qualora ecco avessimo dubbi, quell'enorme PU posizionato al centro ci permette di cominciare a caricare contenuti. Guardate, io in realtà clicco sul più piccolino, Head, perché voglio andare a creare una collection, quindi proprio una baccheca tematica, che chiamerò nel mio caso ad esempio come? Vado a cliccare su title e vado a digitare il Galateo di Mr. Internet, che chi mi segue sa essere il mio progetto nazionale di educazione civica digitale, una etichetta personalizzata per fascia di età. Nel campo sotto andrei a scrivere un descrittivo, quindi un testo descrittivo, oppure ad aggiungere dei tags delle etichette. Io qui vado a comporre un breve testo e scrivo l'etichetta personalizzata per fascia di età. Un decalogo per l'uso sicuro della rete. Bene, ripeto, questa è la collection, non è il singolo contenuto. Aggiungo anche un dettaglio importante. Nel piano free, che è quello che vi verrà proposto in sede di registrazione, abbiamo un gigabyte di spazio di archiviazione da utilizzare. La funzione make private è una funzione in realtà demandata ai piani successivi, cosiddetti premium. Ora io qui clicco su add, perché in realtà come vedete ho generato qui sì una collection, dunque una bacheca. Io clicco su il galateo di Mr. Internet, come potete osservare, e ho diverse funzioni. Allora, questi sono i pulsanti di navigazione. Vedete, back mi fa tornare al pearl trees di Andrea Cartotto. Parent mi fa tornare, in questo caso, comunque a destinazione. Ora io rientro su il galateo di Mr. Internet. Abbiamo il pulsante con la matita e il foglio edit, che mi permette di intervenire ancora per poter effettuare modifiche. Ad esempio, il customize, la tavolozza dei colori, mi permette di fare che cosa? In questo caso di andare banalmente solo su image e di impostare una immagine personalizzata che va a finire dove? Guardiamolo insieme. Io clicco su My Computer. In questo caso vado a prendere dal mio fedele hard disk, che sto scorrendo insieme a voi proprio un file del mio galateo di Mr. Internet. L'ho avviato con il doppio clic, si posiziona in un dato modo. Andiamo a cliccare al di fuori il famoso clicca vuoto, a cliccare poi sulla X ed ancora sulla X. Torniamo a casa. E quando intendo torniamo a casa, clicco proprio sulla casa in alto e vedete dunque dove va dalla copertina. Questa non è la copertina del Pearl Trees, ma è la copertina della singola baccheca e per ciascuna baccheca potrò fare così. Io clicco e poi metto dei contenuti, tutti quelli che io voglia, con un clic sul più. Voglio inserire una immagine? Bene, clicco su Image e l'immagine la vado in questo caso a caricare da dove? Da My Computer. Un clic nuovamente, in questo caso carico la versione del galateo di Mr. Internet pensata per la scuola primaria, che è quella di colore azzurro. L'ho caricata all'interno, vedete? Eccola qui, prende il nome del file, lo vediamo qui in alto. Se io vado a fare un clic in realtà, ho il mio contenuto per esteso, eccolo qui. Mi mostro tra l'altro il link da cui scaricare gratuitamente già in tantissime scuole d'Italia, la versione più appropriata per voi del galateo di Mr. Internet. Se vado a cliccare sulla matitina e sul foglio, posso modificare che cosa nella versione free? Il title, per cui in questo caso vado a selezionare, a digitare il galateo di Mr. Internet per la scuola primaria. E poi vado a cliccare su OK. Clicco sulla X o vado a fare un clic a vuoto e posso titolare ed organizzare il mio lavoro come meglio io creda. Noterete che a questo punto, poiché voglio aggiungere contenuti su il galateo di Mr. Internet, vado a cliccare sul più e posso anche, cliccando web page, raccogliere qui come segnalibro proprio una pagina web. In questo caso io voglio accostare al galateo di Mr. Internet ad esempio il mio canale YouTube. Dunque digito www.youtube.com.trainerandrea. Poi clicco su Add, siamo nella modalità URL e vedete che sostanzialmente vado a cliccare ora sulla bacheca. In realtà cosa ho a disposizione qui? Allora andiamo un pochettino ad osservare. Ha preso youtube.com ma non ha preso il riferimento interno. Bene, clicco sulla matita edit, vado poi ulteriormente su title, qui c'è un youtube che non mi piace, vado a specificare canale youtube Andrea Cartotto, vado a cliccare ancora su ok, vado a cliccare su x, e vedete, vedete che occorre qualche istante per l'aggiornamento dell'anteprima poi della mia bacheca, ma che alla fine l'aggiornamento si mostra, eccolo qui a noi, perché se notate ora non c'è più youtube.com generico, ma c'è il canale youtube. Per tornare a bomba, come dicono i nostri ragazzi, io clicco sul pulsante casa home e sono nel pearl trees generale di Andrea Cartotto con poi all'interno le sottobacheche, se mi concedete il termine. Ora, sia Andrea Cartotto bachecona, perdonate questo accrescitivo, sia la singola bacheca interna, ecco entrambe, hanno il pulsante, lo conosciamo ormai del triangolo rovesciato share, per cui con un clic io posso condividere in diversi interessanti modi, allora il più classico e generico è il permalink, dove io ho, lo vedete, il collection link, quindi un link che posso prendere e pubblicare, cioè postare sul mio stream di classroom, inviare via email a un destinatario ed altre modalità. Sempre qui sul mio canale youtube, cercate il videocorso sulla risorsa bit.ly, scritto bit.ly, perché questo collection link così lungo, può essere accorciato e reso parlante proprio con bit.ly. Vi mostro anche che in realtà c'è una funzione comunque integrata, send by email, che consente appunto da qui di inviare via mail questo link interno. Vado a chiudere con X. Oppure ancora, interessante, è il pulsante QR code che mi permette di generare e di scaricare con il pulsante download image il QR code che rimandi proprio a questa bacheca. Vado ora dunque a chiudere con X e poi ancora con X. In sintesi, cosa possiamo fare con Pearl Trees? Noi abbiamo un repository, perché di questo si tratta, assolutamente condivisibile, che possiamo utilizzare per archiviare, sì non lo ricordo nella versione free, ad un limite di un gigabyte, materiali, poster, schede, flashcards, da condividere con i nostri alunni. Quindi, interessante, c'è anche una funzione che si chiama Clipper in realtà, che mi permette, qualora io la vada ad installare, di clippare appunto, cioè di acchiappare, URL che io vada ad incontrare durante la mia navigazione in rete per posizionarli qui. Infatti, un utilizzo di Pearl Trees che vi consiglio è proprio quello di considerare questa web app come un raccoglitore di segnalibri. Cioè, invece di utilizzare la classica funzione preferiti o segnalibri del browser, noi qui possiamo avere un grande Pearl Trees del docente e poi delle bacheche tematiche della disciplina o di alcuni contenuti. Quindi, ecco come un docente di arte e immagine può ad esempio avere la sua bacheca interna, la sua collection dedicata all'impressionismo e poi ancora al cubismo e così via. Una risorsa dunque comoda e che potremo portare avanti negli anni, che non nasce al tempo della pandemia, lo ricordo, ma pensate, hai visto i suoi inizi, ecco, il suo sviluppo nel 2007 per poi, ecco, avere il lancio in qualche misura ufficiale nel 2009. Diciamoci dunque, a conclusione, che le risorse per la didattica digitale esistono, esistono da anni. Io mi ricordo di aver parlato di Pearl Trees anni fa in un mio corso. Ebbene, che allora il tempo in cui stiamo vivendo sia per tutti una esortazione a non fare di ogni erba un fascio, a saperle selezionare, conoscere ed impiegare per la didattica consigliandole anche ad i nostri alunni perché è nei loro confronti che dobbiamo dare un esempio, un esempio virtuoso anche e soprattutto nella competenza digitale. Dunque, un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso e ciao!